Oh, guarda chi c'è Nicola Zhang? Oggi mangiamo il Lanzhou Lamien, ovvero ramen cinese a Bangkok. Eh no, non siamo nella solita Chinatown di Bangkok, ma è un'altra Chinatown meno conosciuta ed è verso il nord di Bangkok. Trovate di tutto qui. Troverete tantissimo cibo dal Lanzhou Lamien alla cucina del Chongqing. E dato che da un bel po' che non mangio il Lanzhou Lamien, me lo scaffo oggi. Lanzhou Lamien tradotto in italiano vuol dire spaghetti tirati ed è quello che sta facendo ora Vin Diesel. Sti spaghetti sono originali della città di Lanzhou ed è un piatto totalmente halal con brodo, fette di manzo e fette di rapa. Mancavano un bel po'. Non pensavo di trovarli pure qui a Bangkok. Sono buonissimi, come quelli che ho mangiato in Cina. Una bella porzione di Lanzhou Lamien. Non poteva mancare l'aglio. Finito. Ciao.